So che era ora di realizzare un nuovo video acquisti, me lo avete chiesto in tanti. Vi ho fatto aspettare ma ne sarà valsa la pena. Oggi vedremo ben 12 nuovi giochi che si sono aggiunti alla mia collezione tra ottobre e gennaio. Ciao ragazzi, io sono Miss Meeple, se siete nuovi da queste parti fate pure un giro sul mio canale, troverete consigli e tutorial sul mondo dei giochi da tavolo per grandi e piccini. Oggi vedremo i giochi che ho acquistato negli ultimi tre mesi. La lista è lunga perciò andremo abbastanza spediti, vi darò solo una veloce impressione su ognuno. Fatemi sapere nei commenti se avete dubbi o se volete chiarimenti più approfonditi su alcuni dei titoli citati. Considerate che di alcuni di questi titoli ho già realizzato un tutorial, ve lo segnalerò così che possiate andare ad approfondire il gioco. Di altri titoli invece realizzerò un video a breve. Cominciamo? Tra i tutorial che avete visto a dicembre c'è Newton, gestionale di casa Craniocreations, con elementi di deck building e esplorazione su mappa. Un German solido, firmato da Simone Luciani e Nestore Mangone, che ci catapulta tra gli scienziati del diciottesimo secolo. Gioco molto stretto, con decisioni definitive che cambieranno il corso della partita. Di stampo più leggero è invece Reef, gioco astratto edito da Genos Games. Il link al video tutorial che ho realizzato è qui in alto e nella descrizione. Nell'atmosfera rilassata dei fondali marini ci troviamo a dover costruire la barriera corallina, cercando di creare combinazioni che diano più punti possibili. Pezzettoni di plastica colorata gli danno un aspetto un po' bambinesco, ma il divertimento non manca anche per i più giovani e i neofiti. Poi c'è stato Welcome To, un filler che mi ha colpito molto e che sta ancora riempiendo le mie serate. Sul segnapunti sono disegnate tre strade su cui dovremo inserire dei numeri civici che escono da un mazzo di carte. Bisognerà incastrarle in ordine crescente in modo da ottenere i bonus migliori di volta in volta. Vi consiglio di guardare il mio video tutorial per capire come si gioca e vi assicuro che vi verrà voglia di comprarlo. E ora due titoli investigativi. Il primo lo conoscete perché avete già visto il mio video, è Chronicles of Crime, la versione digitale dei classici giochi di investigazione alla Sherlock Holmes. Per giocarlo è necessario avere un'app con cui scansionare dei QR code presenti su carta e luogo, indizio e personaggio. L'altra novità è l'esplorazione in 3D, sempre grazie all'app, dei luoghi del delitto. Le storie sono molto belle e avvincenti, ma il meccanismo di scansionare e l'esplorazione 3D non sono proprio ben riuscite e risultano un po' macchinose, insomma tolgono un po' di poesia al gioco. L'altro investigativo è proprio il nuovo capitolo della saga di Sherlock Holmes, si chiama Carlton House e Queen's Park. Ho comprato la versione inglese ad uno stand di Luca Comics, non credo sia ancora disponibile la versione italiana. Il gioco è assolutamente lo stesso degli altri capitoli. Qui alla mappa di Londra si aggiungono la mappa di Carlton House, una magione nobiliare, e la mappa di Queen's Park, per rendere le esplorazioni un po' diverse dal solito. Assolutamente consigliato se siete fan del precedente Sherlock Holmes. Ho comprato altri due giochi a Luca Comics l'anno scorso. Uno è ormai un classico che da tempo cercavo di avere in collezione. È Troyes, un gestione dadi che adoro. Il gioco ripercorre la storia della città di Troyes, con i giocatori che influenzeranno tre aspetti della vita cittadina, quello militare, civile e religioso. Con nemici alle porte, eventi inaspettati e interazione tra i giocatori, Troyes è ormai un punto di riferimento per il genere. Ultimo gioco acquistato a Luca è Fog of Love, anche questo in versione inglese. È un gioco particolarissimo per due soli giocatori, in cui si ripercorre a episodi la vita di una coppia. A partire dal primo incontro, la scintilla, vari appuntamenti e altri momenti clou della storia d'amore, fino ad arrivare ad un epilogo che può essere più o meno felice in base agli obiettivi personali di ognuno. Mi piacerebbe parlarvene più approfonditamente in un prossimo video. Qui vi dirò solo che secondo me il gameplay è un po' carente, ma come esperienza quasi di gioco di ruolo è molto divertente, se non la prendete troppo sul serio. Alcune decisioni riguardo gli eventi potrebbero essere mal interpretate da chi gioca con voi. Paradossalmente consiglio di non giocarlo con il vostro partner. Un gioco il cui arrivo in collezione mi ha molto emozionato è stato Gugong. Se non sapete perché mi ha emozionato vi consiglio di vedere questo video. Parla di una sorpresa di Natale molto speciale. Gugong parla di intriga e corruzione nella Cina del XVI secolo. Il meccanismo di selezione azioni è molto originale. Ad ogni luogo corrisponde una carta dono, che va sostituita con un dono di valore maggiore dalla nostra mano per poter eseguire l'azione del luogo. Decisioni molto strategiche vanno prese per trarre beneficio da tutte le carte che abbiamo in mano. All'aumentare del numero di giocatori ciò diventa sempre meno controllabile perché la situazione sul tabellone cambia rapidamente, ma il gioco prende forma e diventa più divertente. Il tabellone ha al suo interno tante piccole sezioni, come se fossero tanti minigiochi, e questo porta all'annoso problema del non riuscire a fare tutto. Un regalo di Natale che mi sono fatta da sola è Zombicide Black Plague. Lo so, potreste inorridire vedendomi con un American in mano, ma ci sono pochissimi titoli di questo genere che mi piacciono, e Zombicide è uno di questi. Vi dirò, dare la caccia a degli zombie nei panni di eroi fantasy medievali non mi dispiace affatto. Un altro gioco di miniature che ho avuto la curiosità di provare è Harry Potter Miniature Adventure Game. Non mi dilungo perché uscirà presto un video dedicato a questo gioco, ma il succo è che lo consiglio solo ai fan e ai collezionisti di Harry Potter. Il gioco è abbastanza debole a livello di gameplay e risulta ben poco emozionante. Non poteva mancare un gioco per due in questa lista ed è Onitama, di cui avete già visto un mio tutorial. È un gioco a stratto scacchistico di ambientazione orientale, in cui due scuole di arti marziali si sfidano con mosse ispirate dai loro spiriti guida. Un maestro e quattro allievi dovranno sconfiggere la scuola avversaria, in un duello in cui pazienza e astuzia sono le doti principali, in cui ognuno dovrà trarre il massimo dalle mosse proprie e da quelle dell'avversario. E per finire, il gioco di cui più recentemente ho parlato in un tutorial. Small Star Empires è un gioco di esplorazione spaziale molto semplice, in cui la mossa da fare è sempre solo una, muovere l'astronave e colonizzare il sistema in cui ci si è fermati. Ma la decisione su dove muoversi è cruciale, e il gioco si trasforma in un astratto geometrico, in cui ragionare attentamente su tutte le mosse presenti e future, per non farsi bloccare dagli avversari e per raggiungere più velocemente possibile i sistemi più ricchi. Mi ha colpito per la sua semplicità apparente e per le infinite variabili di setup che si possono realizzare. E ora la parte che preferisco, scrivetemi nei commenti quali giochi avete comprato di recente o quali vi hanno regalato. Noi ci vediamo al prossimo video acquisti, alla prossima e buon gioco!